Violento scontro nella mattinata di lunedì in via Galvani nella zona industriale all'altezza dell'incrocio con via Galilei. Uno scuterista classe 43 stava percorrendo via Galvani in direzione del centro cittadino quando è stato colpito da un camion che stava uscendo in quel momento da via Galilei. L'impatto è stato molto violento. Motorino e scuterista sono stati scaramentati dall'altra parte della careggiata finendo contro una cancellata. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato ricoverato con il codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Per determinare le responsabilità dell'accaduto è intervenuta la polizia locale della Romagna Frentina.